Ti sei mai chiesto che rischio hai di sviluppare il diabete di tipo 2? Abbiamo una scala semplice a cui possiamo rispondere. Intanto l'età, perché se hai meno di 40 anni il punteggio è 0, se hai più di 60 anni il punteggio è 3. Hai un papà, una mamma, un fratello, una sorella con il diabete di tipo 2? Punteggio 1, se no punteggio 0. Sei maschio o sei femmina? Sei maschio, punteggio 1, sei femmina, punteggio 0. E se sei donna e hai avuto una gravidanza, hai avuto un problema di diabete durante la gravidanza? Se sì, punteggio 1, se no punteggio 0. Soffri di pressione alta, assumi dei farmaci per la pressione? Se sì, punteggio 1, se no punteggio 0. E ancora l'attività fisica. Se fai attività fisica, punteggio 0. Se non la fai, punteggio 1. E il peso corporeo, anche lì un punteggio da 0 a 3. Avremo un punteggio finale. Se il punteggio è uguale o superare a 5, dobbiamo fare degli esami specifici, degli esami del sangue. Quindi un dosaggio della glicemia, dell'emoglobina glicosinata e quella che viene chiamata curva da carico orale di glucosio. Cioè l'assunzione di 75 mg di glucosio per os e quindi il dosaggio della glicemia a 2 ore. A 2 ore fino adesso. In realtà è in corso una rivoluzione diabetologica che permetterà di ridurre i tempi di questa curva e poter fare un dosaggio a 1 ora e poter riscontrare il diabete, o una condizione di predisposizione al diabete che chiamiamo pre-diabete, con valori più bassi. Ma allora se il tuo punteggio è così alto diventerai sicuramente diabetico? No, perché comunque ci sono degli elementi che non possiamo modificare. La familiarità, il genere, l'età. Ma ce ne sono delle altre invece che sono assolutamente modificabili. E per esempio una sana dieta, una dieta mediterranea che ti permette di perdere peso e dall'altro fare attività fisica. Questo ti permette di perdere peso e ti riduce il rischio. E l'attività fisica può essere da qualunque, può essere ballare, anche sorridere, perché quando sorridi muovi più di 300 muscoli. Grazie a tutti.